Siete qui davanti al Comune per protestare per quale motivo? Perché ci hanno staccato la corrente stamattina, all'improvviso ci hanno staccato la corrente, senza neanche un avviso e comunque ci hanno comunicato tramite l'Avvocato Matrella che la corrente non veniva staccata. Dopo otto anni che eravamo abusivi, all'improvviso sono presentati dicendo che la corrente la dobbiamo pagare. Va bene, la dobbiamo pagare, facciamo i contatori. Se ne escono dicendo che lì non possono fare le linee ognuno per sé dei contatori. Perché? Perché rischiamo di saltarinare l'uno con l'altro. L'uno con l'altro. Noi dove andiamo a abitare? In quanti siete? 51 container stanno e stiamo 300 persone, solo di bambini 200 bambini. E all'improvviso sentiamo dentro i contani qualche presa che si brucia o qualcosa. perché? Perché ci sono due linee che già stavano vecchie e oggi non possono mettere le mani dentro i container. Voi adesso che cosa chiedete? Chiediamo di fare ognuno per sé le linee nuove ai contatori. Perché non scende il sindaco? Perché non ci dà questa sicurezza? Perché ci abbandona quell'essere? Perché? 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 Ci vuole farci